In Toscana si allarga la rete di telecamere e di videosorveglianza per garantire la sicurezza nelle città e nei paesi. Sono 67 i progetti presentati dai comuni o dalle unioni di comuni su tutto il territorio regionale, dal sud al centro al nord della Toscana, finanziati con 850 mila euro dalla regione e rientrati nella graduatoria del bando 2017. 60 quelli presentati dai piccoli comuni, esclusi dai contributi della vecchia legge, mentre 7, l'ultimo finanziato solo in parte, quelli dei comuni più grandi e delle unioni dei comuni. Il contributo copre il 70% della spesa. L'anno scorso erano stati finanziati altri 63 progetti con 1 milione e 522 mila euro. Se consideriamo che in alcuni di questi progetti sono coinvolti più comuni perché magari gestiti e richiesti da unioni di comuni o associazioni di comuni, siamo ben oltre il 50% dei comuni toscani che hanno usufruito di questo finanziamento. Tra i requisiti richiesti per i progetti c'è anche quello delle reti intelligenti di telecamere e di videosorveglianza capaci di dialogare tra loro con software per il riconoscimento facciale. Misure, ha detto l'assessore Bugli, che si affiancano alla revitalizzazione dei quartieri finanziata con 600 mila euro e già sperimentata a Prato, Livorno, Pisa e Firenze. Avere una regione, quindi non alcuni comuni a spot, ma una regione interamente coperta da questa tipologia tecnologica della videosorveglianza è importante perché ci consentirà quello che prima si faceva a livello di singolo comune, provare a estenderla a livello regionale. Ora, se ulteriori risorse si rendessero disponibili, la graduatoria potrà scorrere per finanziare anche i 30 comuni o unioni ammessi che dopo aver usufruito del bando dell'anno scorso hanno presentato nuovi progetti.